Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusate la mia misa, sono intenuta da pigiama, ma dovete sapere che ho fatto un viaggio piuttosto lungo perché sono andata nei cimiteri e io non li ho molto vicini a casa perché purtroppo la mia zietta è molto lontana. Allora, sono arrivata a casa, ho fatto una doccia, mi sono messa il pigiamino, mi sono sdraiata 10 minuti perché non è che mi piace guidare per un'ora e mezza, devo dire la verità, mi piace guidare ma un'ora e mezza di filato in posti dove non ci sono neanche due negozi da vedere perché tutta Campania è pesantuccio. Benissimo, a parte questo, volevo parlarvi di profumi low cost e per la precisione dei tesori d'Oriente perché per me sono i profumi migliori a costi veramente accessibili. Allora, partiamo con i miei due preferiti, così ce li leviamo, facciamo veloci perché li ho già recensiti più volte. Uno è l'orchidea della Cina e l'altro è Bizantium, questi qua sono i miei preferiti, questi io li compro e li ricompro. Bizantium è un orientale floreale del 2016 e dolce è un mandorla vanigliato mielato. Questo dove lo spruzzate sta anche quando lavate la roba, è un portento, buonissimo. Io ci sento il bortalco, cioè io ribadisco che mi vengono i brividini, è buonissimo ragazzi, a me piace tantissimo però è un gusto personale, molto molto dolce. Questo pare che sia il dupe di Sweet Oriental Dream di Montale. L'orchidea della Cina è identico perché l'ho posseduto al Jennifer Lopez Miami Glow. L'ho posseduto quindi so dirvi con certezza che è lui, è buonissimo. Persistente anche lui, floreale, dolce, talcatto, balsamico, legnoso, orientale. Non vi leggo tutte le note perché vi ho già fatto un video su questi due, più di un video su questi due. Passo ad altri tesori d'Oriente. Non vi voglio stare a stressare sempre con gli stessi. Allora, a mamma. Questo qui è il dupe trovato di Yves Saint Laurent Cinema. Agrumato, floreale bianco, dolce, floreale vanigliato. Lo definiscono unisex. In testa al mandarino, limone, fiori di mandorla, cuore di fiori d'arance, gelsomino, la base di vaniglia, note, legnose, ambra e muschio animale. Anche questo qui mi piace molto. È molto dolce, molto caldo. Persiste abbastanza sugli indumenti e sulla pelle. È un buon profumo. Però, a differenza degli altri due, ma è sempre un'opinione mia personale, è un profumo che si è già sentito parecchio. Quindi, sì, buono, ma non indispensabile per me. Poi, un profumo veramente, veramente buono è questo. Questo qui è vaniglia e zenzero. Che buono, ragazze. Intanto vediamo dove l'ho scritto. Eccolo qua. Allora, intanto non ho trovato a che dupe corrisponda. È un legnoso vanigliato talcato, ambra, speziato fresco. Unisex. Testa, bergamotto e zenzero. Cuore, legno di palissandro, orchidea, yang-yang. Base di vaniglia, sandalo, cedro, ambra, muschio animale, legno di cashmere. È buonissimo. Allora, sì, è unisex. Potrebbe anche usarlo un uomo. Mi trovano d'accordo. Ma è dolce e speziato. Dolce e speziato, ma è anche fresco allo stesso tempo. Talcato, sì, ma non esageratamente talcato. È proprio uno speziato fresco, questo qui. Buono, buono veramente. Anche questo qui ha un'ottima persistenza sia sulla pelle che sui vestiti. Poi, tiaree delle indie. Il tiaree delle indie è un floreale da donna del 2013. Floreale bianco, fruttato, animale, dolce, floreale. Questo qui lo definiscono... Niente, anche questo il dupe non l'ho trovato, mi sto per confondere con l'altro. Allora, questo qui è dolce. Ce l'ho, oggi l'ho indossato. Questo è dolce, molto buono. Però è un dolce che può... Ad esempio, a me piace molto. Però, se avesse una fortissima persistenza, mi darebbe fastidio. Perché è un dolce diverso dai dolci che piacciono a me. Questo qui è più... Questo qui prende un po' le papille gustative. Ragazze, prendetele così le mie descrizioni dei profumi. È molto, molto buono. Sa anche di pulito nel suo dolce. Mi piace indossarlo e mi piace il fatto che non dura tante, tante, tante ore. Sulla pelle rimane, ma non ve lo sentite venire su in modo esasperante dopo un tot di ore. Comunque, i tesori d'oriente per me sono i più buoni dupe che ci siano, perché durano veramente tanto e hanno un costo. Che se andate dai cinesi, guardate questo che c'è ancora l'etichetta, 3,90 euro. Se andate però da Acqua e Sapone o da... Non mi vengono altri nomi. Lilia Pua. Costano di più in questi posti qua. Dovete andare dai cinesi. L'ultimo è Mirra. Allora, questo qui è quello che a me non piace, dico la verità. Dicono che è il dupe di Chopard di Kashmir. Balsamico, fruttato, legnoso, dolce, vanigliato. Orientale, unisex. Benzoino, ambra, arancia, peonia. Il cuore di Mirra, opoponax, benzoino e ambra. La base di sandalo, cedro, vaniglia, muschio, animale. Io qui ci sento tanto la Mirra. E mi riporta a una chiesa. Ecco, così l'ho detto. Eh, incenso e mirra. Cioè... Anche questo non è esasperante nella persistenza. Persiste, è caldo, ma è un genere che a me non rientra nelle mie corde. Comunque è anche questo un ottimo profumo che secondo me non infastidisce. Ecco. Ad ogni modo i miei preferiti rimangono questi due. Questi due io è tanto che li uso, li compro, li ricompro e per me sono il top. Il top veramente. Forse perché avendo avuto, perché ho usato Miami Glow di Jennifer Lopez, quando ho trovato questo qua, mi sono veramente sentita. Ho detto, ho trovato... È identico. Identico, ragazza, veramente. E poi è buonissimo ad osso, dura, non infastidisce. Mi piace. Mi piace. E questo qui, Bisantium, questa è una bomba. È il più persistente che possiedo qua. Cioè, è il più persistente. Questo qui lo spruzzate. Avete finito, eh. Cioè, potete anche non lavarvi due giorni che lui continua a emanare questa sua dolcezza. Ragazze, ragazzi, vi mando un grosso bacio. Buona giornata. Ciao!